salve fratelli e sorelle bianconere e benvenuti in un mio nuovo video allora ragazzi sono arrivati i bollettini medici da parte dello j medical sugli infortunati stiamo parlando di paolo di bala federico chiesa e weston mckenny sostanzialmente il più tra virgolette grave e paolo di bala che ha riportato una lieve lesione collaterale mediale del ginocchio sinistro e sarà fermo all'incirca 15 barra 20 giorni poi logicamente diventeranno 30 barra 40 perché abbiamo dello staff del cazzo sostanzialmente però sulla carta sono 15 barra 20 giorni questo è lo stesso caso di demiral vi ricordate demiral elongazione quando sarà fermo e 10 15 giorni si è fregato un mese di stop e più però vabbè sorvoliamo e federico chiesa passiamo a federico chiesa che ieri ha subito un bruttissimo fallo da pedro bianco e voglio aprire una piccola parentesi dovete da sapere ragazzi che ieri alla domenica sportiva l'arbitro saccani ha analizzato l'accaduto ha analizzato l'episodio dicendo che sì però se vediamo il replay aumenta aumenta la dinamica si come cazzo il termine che ha usato come ha detto si amplifica la dinamica del fallo ma che cazzo vuol dire cioè per essere rosso in praticamente che ce l'aveva spazzata caviglia federico chiesa da come da come state dicendo voi ci si ragazzi perché ieri hanno detto che il rosso non c'era avete sentito bene ieri alla domenica sportiva hanno detto che il rosso non c'era però bianco cioè praticamente chiesa si doveva rompere la caviglia a quel punto magari il rosso ci poteva anche stare avevano hanno detto anche che hanno detto anche che il fallo di bonucci era da ultimo uomo a 35 metri dalla porta ed era rosso diretto allora dovremmo dare il rosso diretto a tutti i calciatori visto che tutte le domeniche a meno uno si invola verso la porta e viene atterrato però logicamente si parla della juventus e subito si devono fare i complotti no e insomma federico chiesa che ha subito quel brutto fallo e anche lui per anche per lui le condizioni sono da valutare però comunque resto positivo perché ha finito la partita tranquillamente e non ci dovrebbero essere problemi così come non ci dovrebbero essere problemi per western mckennie anche lui ieri è stato il primo a uscire per infortunio sostanzialmente è stato provocato da una sua giocata da due sombreri fatti ai giocatori del sasolo ai difensori per la precisione e poi il colpo di tacco strepitoso senza guardare l'ha sentito proprio con il fiuto weston per fra botta che è andata alla conclusione vale parata da consigli quindi in quell'occasione weston ha sentito tirare un po la gamba subito si è fermato ha chiesto il cambio per precauzione non ha voluto rischiare assolutamente è uscito anche correndo sostanzialmente quindi credo anche facendo tutti gli scongiuri di questo mondo ragazzi ci sta girando tutto tutto storto però non penso che ci dovrebbero essere sostanzialmente problemi anche per lui per la sfida che andrà in programma giorno 17 domenica san siro contro l'inter in settimana c'è la partita di coppa italia contro il genoa ci sarà penso molto molto turn over anche se abbiamo i calciatori contati ce li abbiamo veramente contati e vedremo cosa accadrà ragazzi c'è stata una notizia mercato nell'ultima ora ragazzi rovella praticamente un nuovo calciatore della juventus a breve sosterà le visite mediche poi firmerà il contratto e comunque andrà al al genova di nuovo rimanà a genova in presido non si sa se per 6 o barra 18 mesi poi logicamente lo scopriremo al momento della firma del contratto quando uscirà il comunicato c'è anche un'altra notizia di mercato su scamacca ragazzi dicono che sia molto vicino prendetele prendetela con le pinze questa notizia ragazzi perché non si può mai sapere sapete il valzer il giro delle notizie sulle punte che stanno uscendo che stanno accostando alla juventus quindi vi ripeto di prenderla con le pinze questa notizia dicono che scamacca sia molto vicino alla juventus scamacca giocatore in prestito al genova ma di proprietà sassuolo quindi logicamente bisognerà trattare con il sassuolo vedremo cosa succederà ragazzi io un pensierino sul papu comez onestamente ce l'avrei fatto onestamente ce l'avrei fatto anche perché comunque gomez è un fantasista è un calciatore che può fare da collante tra centrocampo e attacco a qualità fantasia estro io ripeto sinceramente un pensierino sul papu ce l'avrei veramente fatto ma purtroppo capisco che abbiamo incapaciti come dirigente e purtroppo ci dobbiamo accontentare di quelli che abbiamo sì perché noi siamo contenti della rosa che abbiamo abbiamo una squadra molto completitiva e soprattutto al completo io vi auguro un buon proseguimento di serata a tutti e sempre fino alla fine forza juventus ragazzi mai mollare grazie